L'organizzazione l'ha tratto? Tu Dante e tu sono? Io sono uno che entra per caso e fa le fotografie Beh mi sento da uno che fa le foto Sicuro? Qui c'è la cosa suona la chitarra Fai il saluto E chi è che suona Giambè? Tu vale che vuoi suonare E dove suonare? C'è il tamborello La mamma sorride sempre Ricordatevi La mamma sempre sorride E questo è un suono della squadra Poi si è suicidato dalla finestra Momento musica Ma scostumista che non sei altra La mamma sempre è la La di là Con la medici cosa? O come prima Oh Ah Oh Uuuuuuuh Tantanto teoricamente dovrei riuscire a guardare avanti Perfetto, perfetto... Questo è il turno no, non penso da cazzo, non è benissimo grazie signori, signore scusateci neanche il turbo siamo una famiglia povera senza casa, senza lavoro senza i soldi per mangiare con quattro figli da vantanere con quattro figli da vantanere grazie signora, grazie signore grazie signore, signore grazie signorina, signore siamo una famiglia media con una casa io sono un punto da pagare che non ci arrivo a fine mese che non ci arrivo a fine mese grazie signora, signore grazie signore, grazie signori siamo una famiglia ricca siamo una famiglia ricca ricca, ricca siamo una famiglia ricca ricca, ricca siamo una famiglia ricca e non ci soffre neanche le spese e non ci soffre neanche le spese non ci soffre neanche le spese grazie signore, signori grazie signorina, signora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.